Lì a Palazzo Lombardia abbiamo intervistato anche il presidente di Arpa Lombardia, Bruno Simini. Bruno Simini, presidente di Arpa Lombardia. Oggi è stata una giornata importante e si è discusso del futuro dell'area in Lombardia. Beh sì, direi che è stata una discussione assolutamente utile. Per fortuna noi proiettiamo per quest'anno dei dati confortanti di tendenza rispetto al 2012-2011. Forse per la prima volta da 20 anni a questa parte, se il meteo continua a secondo delle medie stagionali, forse riusciamo per la prima volta in 20 anni a stare sotto i livelli di guardia sui PM10, sulla media annua. Questo sarebbe un dato straordinario. Naturalmente non si allenta la presa, quindi non ci sediamo su nessuna loro perché bisogna lavorare tutti insieme per cercare di combattere questo fenomeno che purtroppo risente molto anche di una conformazione del nostro paese. Per cui abbiamo questa grande camera con le finestre chiuse che va dal Piemonte fino al Friuli con le montagne che ci trattengono tutto quello che possono trattenere, quindi facciamo anche i conti con questo. Si sta facendo abbastanza a livello istituzionale? Ma sì, sicuramente. È chiaro che pulire l'aria passa attraverso meccanismi di innovazione, di ammodernamento con tutti i problemi e le criticità che questo comporta. Siamo anche in un momento difficile per le famiglie, quindi non è un processo semplicissimo soprattutto pretendere che i comportamenti di tutti siano ammodernati anche dal punto di vista educativo e culturale. Ecco, perché è anche importante, come dire, a partire dalle scuole in avanti, anche a far capire bene come ci si può comportare per cercare di ognuno fare la propria parte, anche se il problema non si risolve con provvedimenti puntuali o micro, è veramente dal concorso generale dei provvedimenti. Per intenderci, non è che uno sporca l'aria che gli sta sopra la testa e quindi ci si misura con quello che sta sopra la nostra testa, perché poi i venti spostano l'aria e quindi, insomma, il problema è più complesso di quello che è.